Sosta numero due. Abbiamo di nuovo rismontato la ruota, cavato le vecchie pezze perché forse perdevano, messo altre pezze, ben tre per due fori. E adesso vedremo se si sgonfia ogni cento metri. Adesso andiamo. Almeno in questo giro ci siamo fermati in un bel posto. Bob! Ok. Sei proprio sfigador. Che schifo. Vediamo se riusciamo a finire il giro. Boh. Voilà. Ok.